Salve a tutti, benvenuti a questo nuovo vlog di aggiornamento su Puzzle la Serie. Grazie per le tantissime domande che ci avete mandato, in questo video cercherò di rispondere a più persone possibile. Iniziamo subito. Marco Di Travertino ci chiede, quando arriveranno le nuove puntate di Puzzle la Serie? Ecco, segnatevi bene questa data perché le nuove puntate arriveranno il prima possibile. Furio e Camillo ci chiedono, è vero che a Edoardo piacciono le banane? Sì, e anche lecca lecca. Ora, Le Pantofole ci chiede, vedremo mai la faccia di Emanuele nei nuovi episodi? La faccia di Emanuele, diciamo che in queste nuove puntate noi cercheremo di mostrare.